Oggi in esclusiva per il gioco delle coppie abbiamo una fantastica star internazionale l'unica inimitabile Lady Gaga Buonasera Pronto? Si sente? Vieni qua, facciamo gioco Buonasera Buonasera So che lei è un ospite molto importante e molto famoso di fama internazionale Allora, si presenti Si va bene, io sono Alvaro Pettigani, ho 37 anni, faccio lo pedaglio Come puoi vedere sono un bel fisico, sono un bel ragazzo e sono molto molto felice Molto, infatti fammela togliere, senti Che cerchi allora? Che vuoi? Sono lì qua per giocare l'anima gemella Ma l'anima gemella so io Voi me Beh, ci sono dei banchetti già, però ci stanno riconoscendo Io non direi che ci vuoi vedere Allora L'anima gemella Vanno riammazzato Adesso Andiamo a conoscere Le misteriose Spasimanti Prego Leggina Ecco la prima Allora Come ti chiami, bella tigrotta? Io mi chiamo Selvaggia Ho 16 anni Sì Cioè Vengo da Cellano Un paese in provincia di Borroni Allora Dici una tua passione Selva Ehm Ho una passione Sprontata di fare le spaccate sulle pannocchie Cioè È quello che mi riesce a mangiare la vita Ma Talleni? Sì, sì, sì Cosa non può mancare nella tua borgetta? La pace del mondo Google E le Big Bubble Ecco Va bene Passiamo alla prossima Buonasera Ecco la seconda Pretendente Per Hapo Lei è una mia compaesana Hello What's your name? My name is Sharon Sharon Where are you from? I come from near Fosso delle Ranocchie In Sant'Uracchio Republic Sant'Uracchio Republic Thank you Well Have you any Anyu Anyu Veni Somma Che ti piace fare? I like so much Go to disco 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 E passiamo Alla terza Pretendente Ciao Io mi chiamo Poncita E vengo dalle Marchicelli Poncita per gli amici Mariella Ehm Sono ingegnere E ho una ditta sulla somma Faccio le pompe pompe A immersione Ehm 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 La Che cosa ci vedi? Ehm Io la supermazza sul nome c'è Adesso è il momento della scelta. E io penso che dopo un'attenta riflessione la mia anima ciabella sia con Cina, detta Mariella di Marchiceni perché abbiamo tante cose in comune. E con ciò tanti saluti dalla vostra Germanotta Gaga e ringraziamo Alvaro. Alvaro stai? Alvaro! Apo! Do! Ah, sì, così. Anche quest'anno, a pochi anni va a show. Auditorium e Santa Caterina, sabato 14 febbraio, Cinquantini Rock Roll Band, DJ Andrew, set fotografico, Free Bar tutta la notte, vi aspettiamo, non mancate.